Benvenuti, anzi bentornati a questo nuovo appuntamento con Radio FBK, il podcast della ricerca che non ti aspetti, perché la ricerca è nascosta dentro ogni momento e ogni angolo della nostra vita. Oggi abbiamo come ospiti una strana coppia apparentemente, quindi abbiamo Elisabetta Farella e Claudio Ferlan, lui storico dell'Istituto Storico Italo Germanico della Fondazione, Bruno Kessler, e da poco anche neodirettore del magazine della Fondazione, e lei a capo invece di un'unità di ricerca del Centro Società Digitale. Intanto vi ringrazio per la vostra disponibilità, ma non vorrei perdere molto tempo, vorrei subito ascoltare diciamo quello che avete da dirci. Intanto facciamo una premessa, questa chiacchierata nasce un po' da una suggestione, da un articolo che ha pubblicato qualche tempo fa, poco tempo fa, su Domani Claudio, in cui accostava i deepfake ad alcuni aneddoti storici, come diciamo ci abituati. Allora i deepfake come sappiamo, per chi non lo sapesse, insomma sono quei messaggi audiovisuali gestiti da un'intelligenza artificiale che riconosce in maniera digitale l'aspetto, la voce delle persone e può sostituire diciamo le persone con altre persone e far dire in pratica a chiunque quello che vuole. Facciamo un esempio, mettiamo che Obama, simbolo mondiale della diciamo dell'emancipazione degli afroamericani in America, facesse dei discorsi artefatti di tipo razzista. Quello è già successo come caso di, come dire, semplificativo, ma la domanda è qual è l'idea che in questo senso può originare i deepfake? Facendo un po' un passo indietro, Claudio. Comincio io allora. Innanzitutto buon momento della giornata a qualsiasi esso sia, a chi ci articolo che ho scritto su domani, ti ringrazio per averlo letto e per averlo citato, la suggestione è stata questa. Il deepfake era un tema che domani, come quotidiano, frequenta abbastanza bene, anzi molto bene, e approfondisce. E io ho pensato, ma io queste cose qui le ho già sentite, le ho già viste. Naturalmente le ho viste e sentite da un altro punto di osservazione, perché non è quello del video, ma è quello dello scritto. I libri scritti apposta per convincere un pubblico di qualsivoglia idea venga trasmessa nel libro sono sempre esistiti. Gli esempi sono tanti, io ho usato quello dei Monita Secreta Società Tessiesus, che è un libro che racconta teoricamente delle strategie segrete di adesione alla compagnia di Gesù, ed è un deepfake. è un falso assoluto. Cosa serve per un falso? Un autore, un editore, un pubblico? In quel caso, che è un caso del primo seicento, diciassettesimo secolo, c'erano tutti e tre. C'era l'autore che era un gesuita espulso, o più che... mi correggo, non espulso, ma al quale non era stato consentito di compiere i gradi della carriera gesuitica, perché non era abbastanza preparato, e quindi aveva un certo livore nei confronti della compagnia di Gesù. C'era un pubblico, perché la compagnia di Gesù si è basata, specie nel primo secolo della sua vita, anche sulla segretezza, e questo incuriosisce. E c'era un editore, un editore pronto a dare voce a Hieronymus Zarhorovsky, questo è il nome dell'autore, e quindi da qui la costruzione del falso. La mia domanda è stata quella, cosa c'è di diverso rispetto ai deepfake, come quello di Obama, che hai citato, come quelli che abbiamo visto sul conflitto russo-ucraino. C'è molto di diverso, ma l'idea che sta alla base è quella. Facendo un salto dalla storia del 600 fino alle tecnologie di oggi, Elisabetta, cos'altro possano fare queste tecnologie? Ma ecco, mi viene da dire che alla base di tutto sta il fatto che la tecnologia di per sé è neutrale, è uno strumento, e quindi non è di per sé la tecnologia che decide l'uso che se ne fa di essa stessa. E quindi, per esempio, il motivo per cui noi nel centro Digital Society abbiamo sviluppato delle tecnologie di anonimizzazione dei volti e delle voci, nasce proprio in realtà perché all'interno del progetto Marvel, un progetto europeo del programma quadro H2020, stiamo cercando di, in realtà, di proteggere i dati sensibili dei cittadini all'interno di quelle che vengono chiamate città intelligenti, le smart city. Ormai, diciamo, in moltissime città italiane, europee, ci sono un sacco di telecamere che riprendono i nostri volti, le nostre azioni negli spazi pubblici. E l'idea del progetto è quella che siccome spesso questi dati rimangono semplicemente raccolti e poco utilizzati da parte di chi deve prendere delle decisioni, tipo, appunto, le pubbliche amministrazioni o anche le forze dell'ordine, questi dati rimangono inutili. Allora, cosa possono fare le tecnologie, come per esempio l'intelligenza artificiale, con questi dati? Possono cercare di interpretarli per ricavare delle informazioni utili, ad esempio per decidere come modificare la viabilità, se è necessario non generare dei nuovi parcheggi, oppure anche identificare degli atti all'interno della città pericolosi per cui è necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Fare questo però vuol dire osservare una quantità di dati enorme, anche di cittadini che non c'entrano niente con certi eventi e quindi è necessario proteggere la loro identità e la loro privacy. Quindi come fare? Come fare l'anonimizzazione? In questo caso quindi il fake è usato per evitare di avere a che fare e manipolare dati in cui possiamo andare a creare delle, appunto, o violare i diritti del cittadino, o anche c'è tutto un aspetto di generare dei pregiudizi, insomma, nel senso che uno potrebbe osservare con quei dati sempre una certo tipo di persona che fa un certo atto e quindi derivare delle conclusioni sbagliate, insomma. Quindi è importante, cioè in questo caso diciamo lo strumento è l'intelligenza artificiale, la generazione di finti volti e finte voci per poter comunque catturare eventi e interpretarli senza violare la privacy, ma quella stessa tecnologia potrebbe essere usata per cambiare la voce di Obama, far dire a Putin qualcosa di diverso, eccetera. Quindi chiaramente lì è chi lo usa, lo strumento che decide. Ascoltandoti e interpretando quello che dici anche dal punto di vista della mia competenza che è quella dello storico, mi è venuto in mente il tema dell'archivio. Cioè noi storici ci confrontiamo con degli archivi nei quali sono stati inseriti dei documenti che nella stragrande maggioranza dei casi sono stati preparati per essere conservati. Questo non è il vostro caso. Alla fin fine i dati che voi recuperate sono stati prodotti incidentalmente o per altri motivi. Come vi ponete di fronte a questa questione che è anche un po' etica? Certo. L'importanza dell'etica all'interno dell'intelligenza artificiale sta emergendo in maniera fortissima perché non solo l'intelligenza artificiale ma anche tutte le tecnologie per raccogliere i dati e sono sempre più performanti e potenti e quindi in realtà io mi occupo più di come raccogliere i dati e quindi questo che mi viene posto a questa domanda è molto interessante. in parte archiviamo i dati perché servono per allenare modelli. In parte ad esempio in questo progetto la scelta è proprio quella di sfruttare le tecnologie di quella che si chiama Internet of Things, le reti di cose per portare l'intelligenza più possibile vicino a dove viene raccolto il dato in modo da consumarlo subito, estrarre quello che interessa perché a me magari non interessa identificare la persona, mi interessa solo capire che tante persone frequentano un certo negozio. Faccio un esempio un'applicazione di un sensore di visione potrebbe essere semplicemente capire se un certo negozio nuovo aperto in città è popolare oppure no quindi non voglio racquisire tutta l'informazione voglio solo contare le persone questa è un'informazione molto poco sensibile diciamo che potrei realizzare semplicemente consumando subito il dato elaborandolo mettendo in un qualche buffer registro del mio sensore piccolino un 1 e poi un 2 poi un 3 e così via e fornire alla fine alla pubblica amministrazione alla cooperativa degli esercenti e robe del genere soltanto il numero di persone che ha frequentato quindi è importante archiviare per allenare i modelli quindi lì sì dobbiamo tenere dati perché più dati abbiamo più evitiamo quel fenomeno che dicevo prima no se io acquisisco le immagini ad esempio di eventi di spaccio solo in una certa zona dove sono sempre le stesse persone a fare questo tipo di atto delinquente potrei derivare che quella tipologia di persone lì sono gli unici che fanno quell'atto perché il mio modello si è allenato soltanto su quei dati lì invece se io ho un campione ampio ed eterogeneo di dati su cui poter allenare i modelli riesco ad evitare quelli che si chiamano i bias e quindi appunto i pregiudizi dell'intelligenza artificiale abbiamo molte cose in comune mi viene da pensare ascoltandoti anche io come storico posso lavorare su grandi quantità di dati leggere una relazione di pagine e pagine e pagine per estrapolare quelle 2, 3, 4, 5 righe che servono alla mia nota anche alla mia domanda di ricerca quindi ascoltando quello che dici mi viene da pensare a quanto grande sia la responsabilità del ricercatore perché noi abbiamo la responsabilità di scegliere e di escludere e a chi ci legge, a chi ci ascolta, a chi ha la bontà di seguirci dobbiamo anche restituire la complessità della responsabilità di una scelta quindi grazie di quello che ci hai raccontato da questo punto di vista Claudio quello del ricercatore, quello della scrittura, selezione di cosa inserire o di cosa mettere in un archivio sia nella storia così come anche oggi attraverso la tecnologia è una forma di potere ne abbiamo avuto degli esempi probabilmente in passato anche nella storia della nostra città ed è una storia che non finisce mai questa ma assolutamente è una scelta di potere rispondo dal punto di vista dello storico anche facendo un esempio perché talvolta lo storico tende un po' a idealizzare quello che fa e a ragionare troppo per concetti e teorie ma no, io voglio andare sull'esempio mi viene in mente un libro che ha guidato davvero la mia prima formazione da storico che è un libro storico-antropologico di un francese che si chiama Nathan Wachtel tradotto in italiano come la visione dei vinti e qui la questione del potere si fa forte come faccio io a dare voce ai vinti a quelli che non hanno voce che non trovo negli archivi perché non sanno scrivere oppure perché parlano una lingua che non verrà mai archiviata questo è il caso degli indigeni che ha studiato Nathan Wachtel nel mondo andino è un problema grosso perché io talvolta queste voci le trovo solo se raccontate dagli altri faccio un esempio il missionario che mi racconta la conversione dell'indigeno qui spesso c'è il deepfake l'indigeno non si è mai convertito ma il missionario vuole vedere in lui il convertito e quindi gli mette in bocca parole che l'indigeno non ha mai detto che l'indigena non ha mai detto gli mette anche in bocca risposte a delle domande che gli sono state fatte e alle quali lui non ha mai risposto ha risposto in maniera diversa come faccio io a capire qual è la visione dei vinti? devo cercare tante fonti, studiare tanto e soprattutto conoscere approfonditamente il contesto ecco perché ci servono le altre scienze in questo caso l'antropologia ma tutte le scienze servono a noi storici restando sull'analogia delle fonti di cui ci parlava Claudio come si fa a passare dalla verosimiglianza all'oggettività massima possibile alla migliore approssimazione attraverso l'impiego delle tecnologie nel tuo lavoro invece? allora, questo è un concetto fondamentale per noi perché la tecnologia vuole, ha come obiettivo il più possibile di raggiungere l'accuratezza e la precisione richiesta da una certa applicazione questo significa che se una sola tecnologia ad esempio nel mio caso una sola tipologia di sensore non mi aiuta a raggiungere ad avvicinarmi il più possibile al 100% della accuratezza uno dei modi che si possono applicare è quello di mettere e impiegare più sensori diversi ciascun sensore ha i propri limiti la visione ad esempio è limitata dalle occlusioni è limitata dalla distanza da quanta luminosità c'è in una scena l'audio potrebbe aiutare in questo senso perché invece non ha il problema dell'occlusione potrebbe avere il problema della distanza eventualmente e posso anche aggiungere altri sensori come sensori indossabili che mi fanno capire la vicinanza eccetera nell'esempio che facciamo prima di contare quante persone sono interessate a un certo negozio e magari la telecamera mi fa sembrare che una persona si avvicina al negozio stesso ma mentre si avvicina dice qualcosa che mi fa capire che non stava andando verso quel negozio lì ma semplicemente raggiungendo una persona e così via quindi potrei escluderla dal conto quindi uno dei modi è questo qui quello di aggiungere di avere più fonti potrebbe essere il parallelo dall'altro lato per arrivare ad una conclusione più accurata e più precisa qui si pone anche la questione del rapporto tra quantità e qualità che mi viene da chiederti come si applica nel tuo campo del sapere perché a volte io non ho a disposizione i tanti sensori o le tante fonti quindi mi devo fidare prima citavo il contesto mi devo fidare della qualità della fonte che sta del documento che è stato prodotto e quindi la qualità del documento che è stato prodotto mi viene da chi l'ha scritto dal contesto in cui è stato fatto da perché è stato prodotto qui apro una parentesi che anche chiuderò parlando sempre di falsi perché mi interessa il falso come storico non tanto per quello che c'è scritto dentro ma per capire la cultura che lo ha richiesto e lo ha generato e quindi chiudo qui la parentesi quindi la domanda che ti faccio c'è anche per voi laddove la quantità non può intervenire in aiuto l'emergenza di avere qualità? Assolutamente sì assolutamente sì ci sono tanti modi per raggiungere la qualità dei dati in un certo senso viene da dire non è tanto diverso perché quello che si può fare dal punto di vista poi informatico è parametrizzare quella confidenza che hai nel dato quindi dal dare banalmente in presenza di più sensori con qualità diverse di ricezione di un certo fenomeno dare dei pesi diversi al dato e inserirli dentro all'algoritmo quindi l'algoritmo sa che il dato che proviene da un certo sensore è più affidabile rispetto ad un altro e l'affidabilità è data dalle caratteristiche tecniche e quindi anche queste sono parametrizzabili configurabili e selezionabili ovviamente non abbiamo sempre a disposizione tutti i sensori possibili immaginabili con tutte le qualità possibili però è assolutamente diciamo c'è assolutamente nella comunità scientifica anche nostra l'esigenza di dare informazioni sia di contesto che sono che permettano di interpretare meglio il dato sia di qualità del dato stesso che viene elaborato ci sono anche molti progetti che lavorano proprio soltanto sulla qualità dei dati e che cercano di ad esempio qui fanno un fake di interpolare i dati quando mancano quindi nel modo più verosimile possibile anche qui diciamo in qualche modo introduciamo un falso ma sulla base di modelli di precedenti dati acquisiti e così via quindi il problema è molto simile devo dire la verità quindi quello che ti chiedo alla fine è Claudio come si costruiscono i falsi anche oggi nel mondo dell'informazione per esempio beh Elisabetta ci ha insegnato che la tecnologia è anche uno strumento non è la tecnologia che costruisce il falso il falso lo costruisce la persona e lo costruisce per un pubblico allora qui la questione si pone su due punti su due livelli la prima è la persona che costruisce il falso c'è una branca della storia che si chiama If History e dice se fosse successo questo come saremmo andati avanti però chi fa If History te lo dice non è che fa finta che i nazisti abbiano vinto la seconda guerra mondiale per convincerti di qualcosa no te lo dice e quindi questa è la responsabilità di chi produce chi invece vuole il falso il pubblico che vuole sentirsi confermato oppure rafforzato su una sua opinione indifferente del perché vuole il falso allora in questo caso a mio parere chi lo costruisce perde la sua innocenza perché lo costruisce per convincere un pubblico e se lo costruisce consapevolmente il falso per convincere un pubblico qui si dà un problema forte di scientificità di quello che fai sia nella storia sia nella comunicazione ma Elisabetta immagino anche nelle tue discipline ci sia una domanda come questa e una responsabilità come questa assolutamente ma credo che questo sia comune a qualsiasi tipo di ricerca nel senso che tutti noi applichiamo il metodo scientifico che si declina poi nelle varie discipline però fondamentalmente nel mio faccio l'esempio del mio caso io non potrò mai scrivere un articolo scientifico dicendo che il mio sistema in assoluto riconosce il numero di persone se vogliamo prendere l'esempio di prima davanti al negozio ed ha un conteggio certo io dirò sempre il mio sistema che descrivo nel dettaglio e quindi permetto a qualcun altro di verificarlo e di ripeterlo a casa sua diciamo riconosce con questa percentuale di precisione il numero di persone davanti al negozio è basato su un modello di riferimento che io considero come verità quella che si chiama ground truth cioè la verità che io prendo come oggettiva ma essa stessa può avere dei problemi semplicemente io ti indico che cosa considero che sia il mio cento per cento così tu puoi confrontare leggendo il mio articolo ripetere gli stessi esperimenti riprodurli e vedere se anche a casa tua fanno lo stesso hanno lo stesso risultato e questo è l'etica del metodo scientifico secondo me è il suo grande valore in più come tutti sappiamo tutto viene sempre verificato prima di essere pubblicato e quindi ha un ulteriore passaggio però sì è un po' la stessa cosa che poi questa necessità di verificare continuamente è anche il bello del nostro lavoro perché ti costringe a porti nuove domande perché ciascuna verifica riuscirà a suggerirti qualcosa di cui non hai tenuto conto e magari può essere il seme per una nuova ricerca io ringrazio Elisabetta e Claudio per questa conversazione e ringrazio anche voi che ci avete ascoltato sia che siate stati sia sia gli appassionati di storia che ci hanno ascoltato perché erano interessati a saperne qualcosa di più da Claudio sia quelli di tecnologia che invece erano curiosi di conoscere Elisabetta e vi ringrazio ancora e vi saluto e do un arrivederci alla prossima puntata sono io che ringrazio Elisabetta per gli spunti che mi hai dato ci penserò sono io che ringrazio Giancarlo che ci ha invitato questa chiacchierata consentitemi mi tolgo un attimo i panni di quello a cui piace parlare davanti a un microfono e indosso quelli del direttore responsabile del magazine in FBK se vi è piaciuto quello che vi abbiamo raccontato e quanto stiamo cercando di fare comunicare la scienza mettendo in discussione collaborazione e in virtuoso confronto scienze che teoricamente ma solo teoricamente non sono parenti ma che in realtà hanno un sacco di cose da dirci che ne pensi Elisabetta? assolutamente sì io stessa sono rimasta piacevolmente impressionata da questo esperimento e ringrazio molto Giancarlo che mi ha invitato e mi ha fatto molto piacere conoscerti e fare questa chiacchierata con te